Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Non hai cultura istituzionale. Non sai quello che si fa? Fermiamoci. Ma come non so quello che dici? Le leggi le fa il Parlamento e la magistratura è indipendente. Orban, non c'entra niente. Orban, non c'entra niente. Orban, non c'entra niente. Orban. Non c'entra niente. Orban, 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 fa il capo del governo. Orban, vi dovete calmare. Orban, blocchiamo tutto lo studio. Dunque, i tempi datemi lì quelli che...